Ragazzi, oggi io e Alfonso ci sfideremo una sfida all'asse. Sì. Prende sfidare. Certo, Alfonso. Tu sei scarsissimo. Certo, Alfonso. Diamo inizio alla sfida. Alfonso, sei pronto? Certo. 3, 2, 1. Onda energetica. Basta. Continuiamo la rotta, però con questo e quello. Quindi, iniziamo. 3, 2, 1. Estraiamo il guanto pesantissimo. 3, 2, 1. No, non ti si vede. Viene un po' più lonti. Grazie.